Le scogliere della Gran Bretagna si stanno rapidamente erodendo e qui, nel villaggio medievale di Happisburg, sulla costa orientale inglese del Norfolk, decine di case sono andate perse in soli due decenni. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico ha accelerato l'erosione. Ti senti come se fossi stato privato della tua umanità, tutto va perduto. Questa foto aerea del 2005 mostra una comunità alla disperata ricerca di aiuto. Da allora molte case sono andate perse a causa del mare. Delle persone mi chiamano e mi dicono, qua abbiamo perso altri 10 metri. Malcolm Kirby conosce bene questa costa, avendo combattuto per decenni per salvarla. Il problema maggiore in questa faccenda della gestione delle coste in questo paese è la totale mancanza di fondi. L'erosione non è una novità per le comunità costiere, ma la gente ad Happisburg dice che il processo si è accelerato. La costa orientale è particolarmente vulnerabile. Si può vedere quanto sia friabile questo terreno sabbioso. Una settimana fa questo intero pezzo di terra era collegato alla scogliera. Ora, in gran parte, è venuto giù sulla spiaggia. La professoressa Sophie Day studia le sfide sociopolitiche dell'adattamento ai cambiamenti climatici e il modo migliore per preparare le comunità. Dice che è una questione di clima e ingiustizia sociale. I cambiamenti climatici hanno significato che le difese qui hanno potuto degradarsi, l'erosione ha aumentato rapidamente, ciò ha causato tanti problemi ad Happisburg, non ultimo alle persone che hanno perso la casa, letteralmente precipitata dalla scogliera. Dobbiamo essere preparati per questo e capire come preparare le comunità a lungo termine ed essere recidienti, resistere a questo tipo di eventi. Il governo ha aggiornato la sua strategia sugli alluvioni e sulle erosioni costiere all'inizio di quest'anno e promette che esplorerà la possibilità di ricollocare alcune comunità a rischio, ma attualmente non ci sono fondi. Comunità come il villaggio di Happisburg sono in prima linea nell'erosione costiera di questo paese, con un massimo di circa 4 metri di terra che scompaiono ogni anno. Il ritmo del cambiamento è in aumento e il Comitato sui cambiamenti climatici afferma che se non si interviene, il terreno su cui si trovano attualmente 100.000 case svanirà semplicemente nell'oceano. Il Regno Unito ha circa 18.000 km di costa continentale vulnerabili alle inondazioni marine e agli smottamenti e l'erosione sta rapidamente diventando un rischio enorme per 17 milioni di persone che vivono così vicine alle coste in tutto il paese.